Dal 27 giugno al 13 settembre con il servizio privato per la riviera adriatica di Bonomi Autonoleggi ti veniamo a prendere sotto casa e ti portiamo nelle più belle località della riviera romagnola seguici su facebook alla pagina Bonomi Autonoleggi Sono ore di intenso lavoro quelle che dalla giornata di domenica a oggi carabinieri, corpo volontari presolana, soccorso alpino, vigili del fuoco e unità cinofile stanno dedicando alle ricerche di Ilio Lucchelli, 79enne che dopo anni di villeggiatura a Castione della Presolana da quattro è residente Il pensionato che in passato aveva svolto il lavoro di incisore risulterebbe essere un esperto camminatore e questo complicherebbe ulteriormente l'opera di ricerca in quanto potrebbe aver raggiunto zone ben più distanti rispetto al territorio setacciato finora Il pensionato che soffre di Alzheimer era uscito di casa dove vive con la moglie per buttare la spazzatura e da quel momento si sono perse le sue tracce Più squadre hanno sedacciato anche questo mercoledì il territorio nelle zone poste a sud dell'abitato ma purtroppo senza alcun esito Il sindaco di Castione della Presolana Angelo Migliorati è rivolto nelle scorse ore un appello Sono a chiedere ai proprietari di casa, agli amministratori di condominio e proprietari di fondi di controllare i giardini, garage, gli androni e le parti comuni degli edifici e dei terreni Qualsiasi notizia ci è indispensabile Chiamate i carabinieri di Clusone al numero 0346 89 800 Oppure il corpo volontari Presolana Protezione Civile al numero 0346 60 666 Elio Lucchelli al momento della scomparsa indossava una camicia, un golfino, jeans e scarpe scure Non aveva con sé il cellulare Grazie a tutti